Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio dopo 10.000 anni della Lucky Sfida Mod E siamo tornati in grande stile con Emerald Ragazzi, allora, non so da dove cominciare, questa serie qui non la portavo da tantissimo tempo Si possono vedere degli spoiler qua dietro, infatti ragazzi siamo con sia l'armatura che i Lucky Block di Firecraft Ma modificati, modificati perché possono uscire cose belle ovviamente come le armi Le cose brutte, questi Lucky Block qui dovrebbero essere le armi brutte Ma no, ci sono delle cose ben peggiori, ovvero gli SCP Aprendo i Lucky Block ragazzi usciranno anche degli SCP Ma non finisce qui perché appunto alla fine, come sempre, dovremo affrontare un boss che sarà un SCP gigantissimo Che spero non ci faccia il culo, ma come abbiamo imparato in questa serie può capitare purtroppo Detto questo, gli SCP che usciranno da questi Lucky Block non saranno sempre gli stessi Attualmente sono questi e magari rimarranno questi per un po' di video ma poi potrebbero anche cambiare Insomma, sapete come funziona Cominciamo Io intanto prendo i miei Lucky Block, sono soltanto 15 In genere sono molti, molti, molti di più Perché questo? Perché in realtà sono già piazzati nella mappa Considerando che non ci sono cose particolari come sono nei Lucky Block normali che esplodono e tutto La mappa non verrà deturbata quindi sono semplicemente nella mappa Oltre tutto qui abbiamo delle ceste lezzissime con le munizioni dentro perché troveremo le munizioni scariche Infatti serviranno soltanto per la boss battle Detto questo, Emme, io ho visto che tu ti sei già buttato giù, mi scibutto anch'io Forza! Allora, aspetta, prima di tutto non aprire subito i Lucky Block perché io ti ricordo che potrebbero uscire degli SCP molto cattivi e non abbiamo le armi per affrontarli Quindi, prima di tutto, apriamo questi qua fortunati Facciamo... Oh, a cavolo! Eh, 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 Ryan Girl Se tu che li conosci cosa fa questa qui? Non la devo guardare? La devo guardare? No, questo qui non basta non la picchi Se non gli fai male, lei non fa male a te Ok, è quella che mi restituisce il danno Vabbè, sì, ok, buona... Vabbè Buone come armi Eh? Perché non gli spari? Perché ho l'arma scarica, sono solo le munizioni Ah, cacchio Brutto stupidino Ci servono... Oh, tieni, tieni Ci servono armi cariche per sparare Sennò non possiamo aprirli Quelli normali... Oh, oh, oh Questo è un problema, Tano No, fermati, non ti avvicinare, ci stanno andando Ok E Sandokan, cos'è? Hulk? No, Tano Ma perché ci stanno uscendo queste cose? Basta Oh, dai Ok, P90, ho trovato un P90 Questo è cattivo? No, è un classe D Ok, meno male che allora che non ci sono usciti quelli che fanno male Ma senti, ma Hulk laggiù fa male oppure no, lui? Oh, Tano, 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 Tano Oh, 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 fermati Spari, gli spari, gli spari Ah, cavolo, penso... Ok Stavo colpendo te un pochettino M, M, M Ah, no, ok Si stava avvicinando... Eh, ma si stava avvicinando in mondo cattivissimo Verso di noi proprio Aspetta, c'è anche un aereo io che passo intanto Non ci facciamo mancare nulla noi a Pisa, che tu pensi? Apriamo i lucky block Vai, let's go Ok, ho trovato una mitraglietta buona Cioè, non è buonissima Però, però sai com'è In tempi di crisi come questi Che poi, ora che ci penso, uomo Abbiamo già trovato due rocket launcher Un RTG E... Cos'hai trovato te poi? Basta? No, niente Niente di particolare adesso Ma no, mi sembrava di aver trovato il mondo A dire il vero a me prima Su via Eh, tu hai trovato il TFG Il rocket launcher E basta Vabbè, che comunque non è male Comunque M, c'è una cosa che non ti ho detto Ovvero... Oh, oh, spari a me? No, no, no Ok In certi punti di interesse Come tu ben sai Ci sono i lucky block fortunati Ma io so alcuni lucky block ultra fortunati E anche in grandi quantità Dove si possono trovare Praticamente ci sono delle strade abbastanza strane Alcune nascoste E alcune altre che appunto sono irraggiungibili Che sia perché devi avere il rampino O il jetpack per raggiungerlo Magari Sì Comunque, comunque Ad esempio Sopra il ponte Che dovrebbe stare sulla mappa Ecco qua sopra proprio Ci sono un botto di lucky block C'è una mucchiata enorme E volendo ci potremmo anche andare, sai? Ma dove sei finito per notare? Non ti vedo più Eh bro, io sono uno spirito libero Non mi puoi tenere a l'insaglio Quindi è così che funziona Però nel senso Sono quasi al centro di villaggi Cioè praticamente dove spawnano i quasi boss Cioè i quasi boss Sì Ok Sono tipo lì più o meno Io ti ho visto Sulla mia destra Devi salire dall'altro lato Però mi sa non da lì Beh intorno qua è pienissimo di lacrime Di avrò Barret Perfetto Se troviamo le munizioni esplosive Oh no vabbè che culo Che culo uomo Le trovate? No, non ho trovato le munizioni esplosive Ma ho trovato un'altra arma Ovvero questa qua che spara a ultra raffica Che ripeto Su Forcraft queste cose qui non sono buone Perché su Forcraft conta molto anche la precisione Però qua siccome stiamo affrontando un boss La ratio di fuoco I danni per secondo Sono importantissimi Non ci ne frega nulla Dell'arma precisa O robe varie Cioè c'è il boss Le andiamo in faccia proprio E sputiamo tutti i colpi addosso a lui E' così che funziona Comunque M Seguimi Dovrebbe La saprisa Dovrebbe essere da questa parte qua Se non sbaglio Dovrebbe essere circa Sulla costa Cioè non è una costa Però Sul crostone Del muro Si dice così? Ok eccola qua L'ho trovata L'ho trovata Sì dai La muraglia Quando contorna la muraglia Si chiama il crostone Ma che cacchia ne so Tano Bro me lo sono inventato ora Ma ti pare che Oh no Tano siamo fottuti Perché? Oh Che succede? C'è la statua Non abbiamo la frizzino? No Dov'è la statua? Oh shit Vabbè ma se ci allontaniamo Guarda versi la parete Sto guardando la parete Non ci segue qua? Ok è troppo lontana Non l'abbiamo triggerata Perfetto Perfetto Che comunque che brutta faccia Che ha la statua Cioè È orribilissima A me non fanno paura gli SCP Sei chiaro? Oddio magari un giorno Faremo anche qualcosa Un pochettino di più pauroso Però non mi fanno paura Ma quello è veramente brutto Cos'è questa roba? Stavo andando da solo Ah è Hulk Ok Oh 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 Bigfoot Bigfoot Oh 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 Ok l'ho chiuso Per fortuna l'hai spalato nel muro Uomo ma non sei venuto con me? No scusami Stavo aprendo altri like Perché ho trovato Ma uomo Un'altra tipa Verde Ok allora io intanto Me ne vado sotto E fai come ti pare Che te ne vuoi dio Che te ne vuoi dio Ma dove sei? Sono salito uomo Mi vedo Girti Ma uomo Io ti vedo Dietro di te Nella grotta Cazzo Porca troia Ma la tipa messa qua Ma che ca... Sì ma non fa nulla Tanto Mamma Spara Guarda ti lascio un pochettino di là Che lo caggiro Io aso direttamente dove c'è il malloppone Che appunto Stavo sotto questa roba Che io non so minimamente cosa ci sia Ma c'è sempre stato nella mappa Uuuuh Quad launcher con il tracking uomo Questo è molto buono Vediamo se c'è altra roba Cos'è? Ho trovato Un classe D Un classe D Ok Tutti gli arancini sono in classe D Il GAUS lo vuoi? Ehm vabbè Io non lo voglio Ah oh Ma che sei pazzo Non mi puoi sparare accanto Guarda che mi piglio di infarti poi Comunque Sono molto preciso Eh Sì vabbè Con un fucile a pompa Io sono molto preciso Oh oh No 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 Fatto Meno male che è sciotta quest'arma E quello che mi prego È incredibile C'è un problema però Che per ora ci sono questi mob In questi lucky block Quando aggiorneremo poi Gli scp Nei lucky block Non ci saranno più soltanto questi Magari non riusciremo più a shottarli Con il pompa Lo so Lo so Ehm Lì potrebbe diventare complicata la cosa Quindi si Per il primo episodio È abbastanza facile Per gli altri È tutto da vedere Chi lo sa Chi lo sa È esatto cosa succederà in futuro Ma 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 È arrivata fino a qua O le hai aperti Porca Troia Everhand Volevo dire se La shottavo io Mi shottava lei E invece Mi ha shottato lei E beh Ma Ma sì Perché penso Che comunque io un giorno Voglio provare a uccidere Cioè ci sarà il modo Di chillare Un esplosivo Sì sì ma Oltre a quello Cioè tutti i modi possibili Per killarlo Ma Ma sì perché Allora la sua Tra i great story È quella che Se tu stai Consieme a lei Lei tipo Ti mette quella sensazione Di attaccare Proprio di picchiarla Ma in realtà Ti fai male tu Capito What the fuck Che storia è Esatto È praticamente Se tu Tu per vederla Dovresti vederla in compagnia Perché se sei in due Non ha effetto Se sei da solo Sei fregato Ma E no Comunque C'è C'è una cosa Nel senso La TNT Penso che la uccida Perché non Non la segna Come che l'hai uccisa te Ma l'ha uccisa Praticamente il server Si potrebbe dire Penso In questo caso Non lo saprei Tano E ecco E ecco Quindi magari C'è qualche cosa Che può Killarla Che non la segna Come il player Che fa danno E quindi Magari non ti segna Che gli hai fatto danno Veramente Cioè non lo so Ma è da testare È abbastanza strano Eh sì Oh cavolo Ho trovato questo Tipo C'era un Che come si chiama La versione precedente Della Rocky Sfida Mod Aveva Dei mob Abbastanza particolari Tra i mob Abbastanza particolari C'erano anche Delle armi Molto particolari Una di quelle armi Era una spada Che Di se per se Non faceva tantissimo danno Cioè circa 10.000 Però in confronto Ad altre spade Capisce anche Che può Oh cacchio Cos'è 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 Oh Ok Perfetto Questa non c'è molto Con un colpo vero No Ha attaccato la mucca Ha ammazzato la mucca Oh cavolo Comunque ti stavo a dire Che quella spada lì Col clic e destro Andava a killare Tutti i player Tutte le cose Che erano vive Tranne te Quindi chissà magari Se con quell'arma lì Riusciresti a ucciderla Oppure no Cioè Eh bisogna vedere Bisogna vedere Oppure se la facessi Scontrare Contro altre cose Oh 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 Tano No uomo Che spavento Che spavento Mi sono sentito Tipo un coso Rotolare accanto E poi il danno La statua Si è triggerata Su di me Si Porca troia uomo Mi sono spaventato Un botto Te lo giuro Non sto scherzando Mi sono spaventato Mi sta seguendo di nuovo Oh C'è la cacchia Faccia raccuno Ma no Ma no era quella Mi sa eh No Si si Guarda noi Stavamo salendo Che era lì Non si sposta Da quella Ma tu Non l'hai Sponda dal lucky block No 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 Io tipo Ero lì che mi faceva I cazzi mia E Buon serenzo Ci sono avvicinati Un medico Prendi lo tecnico E ne ho già uno Allora Io direi Ora di aprire Quelli fortunati Tu ce li hai ancora tutti Più o meno Quasi Quanti ne hai Eh più o meno Sì Cosa vuol dire Quanti ne hai Il numero Non lo so Tano Bro L'inventario C'è scritto il numero 5 Ok Ok E allora apri Uomo E allora apri Tano ho trovato Che cazzo è sta roba Oh cacchio Anch'io Anch'io Non l'avevo mandato prima Eh ho visto Ho visto Col ma non ci serve a niente Qua doveva uscire ad esempio Il Jetpack Però è mezzo Buggato Quindi attualmente L'abbiamo rimosso E me prendi Il quad missile Qua Ma nessuno ha trovato La frizzino No Oh mio dio Ok Ho trovato un altro Missile qua Però tu ce l'hai già Ce l'ho anch'io Quindi niente Ah Cos'è 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 Vola Vola L'ho uccisa Cos'era Era la pegola elettrica E che fa Ah mi ha tirato il fulmin Ecco Ecco Ora capisco il perché Io devo aprire l'ultimo E me Oh che culo Come ultimo Non potevo desiderare di meglio Armatura Leggendare Sono quasi full Full armatura Io Quindi Praticamente Come se avessi Una full diamond Io me ne scappo Da qua Che ci sono i tipi Che magari mi rincorrono Tu hai lasciato Queste le cose per terra Ma non ci servono Va bene E tu le hai aperti tutti Quindi Eh si Allora io Oh mio dio Non riesco Oh cavolo Con le armi Non riesco a scavare Va bene Me ne vado Me ne vado a casetta I tipi mi stanno rincorrendo Ma spero di essere più veloce Io Torniamo su Prendiamo le munizioni Prepariamoci per lo scontro Uomo Sono molto indeciso Sul da farsi Cioè ho molte cose Che ok top E che vorrei tenere Ma altre cose Che sono così indeciso Non lo so Non lo so Altri invece Spaccherebbero la lampa Il medikit Non so se metterlo Prima Magari il medikit Ti regalo una cosa Tieni Aspetta eh Mo vedo Ouch Eh no Ce l'ho anch'io Ce l'ho anch'io Bro Le ho tirate tutte Guarda Te lo ridò Dove sei? Ok guarda Guarda Ho il grim reaper Il rocket launcher L'air Il tfg E il missile guidato Le ho tutte 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 proprio Cioè ho avuto una fortuna assurda da questo punto di vista qua Va bene Io ho caricato tutte le armi Possiamo anche andare Ma non sprecare i colpi così Dai andiamo 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 Uii M M Oh cavolo Porca troia Meno male che Meno male che le facciamo danno Ok c'è un altro laggiù Questo è il boss Quindi sono i boss tipo Oddio oddio Sto caricando Sto caricando Oh mio dio C'è anche la statua Uomo c'è anche la statua E quindi è già finita così? Eh mi sa di no Ah oh mio dio uomo Guarda qua giù Ce n'è uno gigante Ho paura Vieni anche te Vieni anche te Oh ma lì ce ne sono altri Tano aiuto Sono qua Sono qua Sono qua C'è anche la statua C'è anche la statua Cav Quanti sono Non c'erano Ah c'ho le statue dietro però io No no uomo Uomo c'ho le statue C'ho le statue Ah Cavolo Meno male che l'altro Non ci sta considerando No uomo mi stanno Mi stanno raggirando troppo le statue Eh Oh gli sto dando le spalle Dove sei dove sei dove sei Sto Tano vai vedi là vai vedi là Tano Eh ma sto dando le spalle All'altro Dove è finito l'altro Oh mio dio Ahia È qui Oh Non ci muore Questo è il boss vero e proprio Non ci muore Non ci muore Cavolo Ma Aspetta I crimini libero non fa nulla Fermati 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 Mi allontano un attimo Provo Provo col track Tanto non mi può fare nulla Da questa distanza Vai No non ci muore Quanta vita Vai No anche Ma aspetta Ma ci sono la statua Ah no 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 per niente Ok questo l'ho L'ho finito mi sa L'ho traccato L'ho traccato Perfetto Eh uso il TFG uomo Vai Non ci avviciniamo Che lui da questa distanza Qui non ci fa nulla È stupido come il dinosauro No non allontanare Però che non ce l'ho più in vista Poi Ok Uff Non gli fa nulla Eh non gli fa nulla Non gli fa nulla Aio aio Mannaggia le statue bro Ma non c'è modo per ucciderle Con un piccone Eh ma non ce l'abbiamo Un piccone Pugliatele Ok ci vado di AWP io AWP sì buona domani No non ci muore Però vado avvicinarmi Che forse non mi fa nemmeno molto danno sai Vediamo Aio Oh 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 Tano Cavolo fa malissimo Tano Eh So io cosa fare Cosa fai Cosa fai Usa l'altro lanciamissile Quello esplos... Bro Io non lo so Secondo me ce la possiamo fare Tano dietro 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 No come ce n'è un altro Ok Meno male Ma le fa spawnare lui Tipo Può essere Aspetta io uso l'arma più forte che ho In questo momento Non si può avvicinare così C'è troppo... Cioè lo manda via troppo Aio 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 cosa mi ha fatto male No Ma perché c'è una statua accanto Dove è uscita Eh Tano non lo so Spuntano Oh è morto È morto? Sì cazzo Uff Pensavo fosse immortale Beh per sicurezza Tano Sì No Oh Cacchio Uomo Io pensavo fosse immortale Cecchinata tattica Sì lo voglio provare anch'io Questo coso qui Cioè è troppo figo Cioè praticamente io lo lancio Tano aspetta 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 Eh Troppo Troppo tardi Esplosione nucleare fatta Ma il mio non ha spaccato nulla Ah perché non ho attivato le esplosioni Ok niente Però l'effetto c'era comunque È figo Sì